dei casi, se si specula, se si fanno altri ragionamenti se ne possono fare e può avere. Ma la cosa interessante, guardate i punti critici come vengono presi, cioè i cigni neri. Vedete che il blu è la realtà, ok? E il rosso è praticamente... Questi qua sotto sono tutti punti critici messi insieme. Questa è la realtà, questa è l'ipotesi, per cui lui ha capito che questo scendeva. Qui non l'ha capito, per esempio. Qui c'era un massimo, saliva scendeva e lui invece qui non l'ha capito. Questo fa vedere anche che qui abbiamo che i punti critici presi sono circa il 38%. Immaginate che con un sistema a media mobile esponenziale il numero dei punti critici, cioè di quelli che variano in questo modo, è zero. Ok? Con una rete neurale normale di Google, usando TensorFlow, siamo intorno al 15-17%. Guardate, mettendo sopra, in blu la realtà, in rosso la previsione, per quattro anni successivi. Ok? Altro argomento, geographic profiling. È possibile capire soltanto... La previsione viene fatta nel corso del tempo, per quanto tempo avanti? Dunque, è stato addestrato per sette anni, poi è stata messa chiusa, con i pesi che aveva maturato, poi sono stati messi quattro anni successivi, previsione a un giorno qui, al giorno dopo. Qui al giorno dopo, in quello che vi ho fatto vedere. È possibile fare diversamente, ma se la facciamo a un mese ci servono moltissimi anni. Qui al giorno dopo, per cui lui è stato capace, se vedete, fino all'ultimo, fino al quarto anno, di essere molto preciso. Qui vedete la precisione, ma per esempio qui che vedete questo scollamento, è uno scollamento della misura, ma il trend è molto alto qui. Cioè, quando sale uno, sale l'altro. Quando scende uno, scende l'altro. Scende la realtà, scende la previsione. Ok? È possibile prevedere... Questo suona ancora più magico. Se io ho le coordinate di un processo, x e y, latitudine e longitudine, per esempio, Roma, dieci rapine in gioiellerie, io ho soltanto come dato il fatto che, uno, probabilmente la stessa banda, due, di ogni rapina conosco la x e la y. Posso stimare dove cercare il ladro? È chiaro? Allora, detto così, sembra da mago Merlino, però, siccome non ho tempo per farvi vedere la parte matematica, che è la più interessante, per capire, però, quello che sto dicendo l'abbiamo pubblicato su Fisica A, che non è il Corriere dei Piccoli, è la più grossa e importante rivista di Fisica, 55 pagine, su Computational Intelligence, su Information Geo Information System, su Fisica A di nuovo, e su Technological Forecasting and Social Change, che per chi è un economista è la top nel campo dell'economia e delle previsioni. Allora, dati x e y di alcuni punti, che appartengono allo stesso processo, noi siamo in grado di stimare, sempre a livello probabilistico, da dove parte il processo, l'outbreak. Dove va a finire? E adesso vi faccio vedere velocemente. Prendiamo il caso di un'epidemia. L'epidemia è Scheracoli, nel maggio del 2011, in Germania. Ovviamente qui noi siamo stati intervistati poi anche dal Tg2, perché abbiamo predetto l'origine un mese prima che i tedeschi la trovassero. Il 28 maggio la contaminazione era in 13 città. Maggio 2011. 13 città di cui si sapeva soltanto latitudine e longitudine. Questo è il fax che ho ricevuto a Denver dall'Università di Gottinga, dove c'è il centro che si occupava di questo. Questa è la mappa in cui si vedono i punti rossi, sono le città dove c'è stato almeno un caso, quindi io non ho né il tempo né la frequenza. So che in ogni punto c'è stato almeno un caso, ma possono essere stati dieci. Va bene? Il sistema indica due outbreak. Guardate dove sta il segnalibro. È la zona in rosso. È a sud di Hannover, è la zona più importante dell'outbreak, e poi dice c'è un altro outbreak a Francoforte. Lo vedete che c'è il segnalibro? Perfetto. I tedeschi ricevono il 28 maggio da noi questa informativa. Loro ci hanno mandato i dati e ci hanno chiesto un parere. Ci dicono interessante, verificheremo. Non sappiamo più niente, il 18 di giugno 2011, Fischer, che era allora ministro della sanità, comunica che l'origine era a Hannover e in un fiumiciattolo Erlenbach di Francoforte. Potete verificare sulla stampa. Il sistema ci dice qual era la diffusione al momento in cui sono stati raccolti i dati, più è rosso e più è intensa. Ok? Ci dice come tenderà a svilupparsi quello che si chiama gamma, quindi alfa è l'origine, beta è adesso, gamma è domani e teta the day after tomorrow, il giorno dopo. E qui ci dice che alla fine tornerà su Francoforte e su Hamburgo. La cosa interessante è che il sistema ci definisce anche come è credibile che si sia diffuso in questi luoghi. Se voi adesso vedete questo grafo, questo, riportato sulla mappa geografica di cui io non ho contezza, potete vedere che il grafo coincide e si sovrappone alle maggiori autostrade che collegano quei punti. E questa è la macchina di trasformazione. Ci dice come è passata, secondo lui, dalla prima parte che era a Hannover fino a Francoforte ed è rimasta lì. ecco il diagramma della diffusione. Vabbè, poi dice anche, trova il punto iota che è il punto nel quale finirà. Potete vedere che lui indica due punti, vedete in rosso, uno e due, e quello più importante è quello sopra, dove è contornato dall'area rossa. Questa mappa invece è del centro di Gottinga dell'intensità di quell'epidemia a ottobre 2011. Potete vedere che la previsione era molto specifica. La stessa metodica l'abbiamo applicata agli attacchi terroristici ed è quella pubblicata su Fisica, su International Journal of Social Change, forecasting and social change. Allora, abbiamo 174 attacchi terroristici in Siria nel 2014. Voi sapete meglio di me che in Siria nel 2014 l'Isis ancora non è forte. Ecco come sono distribuiti, punti bianchi. Questo è preso dal Global Terrorist Database della University of Maryland. è un Open Dataset gestito dall'Università di Maryland. Il sistema ci dice guarda, l'origine di questi attacchi è quel punto rosso al centro, lo vedete? Vicino ad Aleppo. Lo sapete chi c'è là? Potete andarlo a vedere su Google. Racca. Non era ancora capitale. E ci dice i punti salienti dai quali questi attentati vengono pensati sono due. Quei punti rossi ai lati, li vedete? Uno addirittura fuori fuori schermo quasi. Mentre questo è una zona che diventerà un patrimonio dell'Isis a breve, questo, quell'altro che sta su l'isola di Cipro da parte d'Urca sembra completamente immotivato, sembra un errore del sistema e tale l'abbiamo preso. Senonché questa è dell'ottobre del 2015, un anno e mezzo dopo. scoperta una rotta segreta di rifornimento di foreign fighters dalla Gran Bretagna alla Siria passando per l'aeroporto di Cipro. Ed ecco, questi sono informativi. In più, qui dice, guarda, la cosa del terrorismo inizia così in Siria, si svilupperà così, vedete? E sappiate, ve lo ricordo, ma dovreste ricordare, è nel 2015-2016 che Aleppo diventa il centro del terrorismo. Non nel 2014. Mi scusi? Tigrit. Tigrit. Abbiamo applicato la stessa e pubblicato, perché quello che avete visto qui sta nella pubblicazione che vi ho fatto vedere, a 350 eventi accaduti in Europa nel 2015. Ecco gli eventi. Abbiamo messo qui volontariamente insieme attentati terroristici sia nazisti sia islamisti di tutti i tipi per vedere o il sistema ci indicherà delle cose insensate ma ammettiamo che la mano economica che sta dietro sia unica anche se magari i vari gruppi che rappresentano le cose non necessariamente debbano saperlo. Perché un aumento del caos in Europa significa tante cose dal punto di vista economico. E questa è la distribuzione. Allora, lui ci dice il centro, l'outreak di questi attentati è in quella zona dove c'è il punto giallo. La vedete? Il rosso si concentra c'è il giallo. Zoomiamo. Porto di Rotterdam. Qui non posso dire altro ma se voi leggete i giornali avete visto che cosa è successo quattro mesi fa al porto di Rotterdam. ma vado avanti dice questa è la situazione del 2015 infatti c'erano moltissimi attentati nell'Inghilterra del Nord e in Irlanda ma in Germania non c'erano ancora attentati se vi ricordate. Il famoso camion che cominciava siamo nel 2016 2017 a seguire. Adesso lui mi fa la previsione del dopo dal 2015 come vedi che si diffonderanno questi eventi terroristici? Guardate la zona centrale è la Germania il Belgio e il nord della Francia e la basso Inghilterra e the day after tomorrow si espande. Ok? Allora e l'origine ci indica un punto strano lo vedete? Fuori quadro come al solito quel punto andiamo a vedere che c'è lì siamo andati a vedere che c'è lì siamo al confine tra l'Arabia Saudita e il Qatar sapete cosa c'è a 800 metri dal punto rosso? Il più grosso pozzo petrolifero dell'Aranco allora qui servono gli analisti intelligenti sappiate che tutte queste informazioni siccome noi abbiamo collaborato con le nostre agenzie le abbiamo sempre mandate a chi doveva averle anche se non abbiamo ricevuto grandi disposte però questo pozzo dell'Aranco è quello che ha il come si chiama a Rotterdam c'è la banchina di Aranco privata gestita dall'Aranco allora se io dovessi essere cattivo e dover pensare male ma non sono un analista e non posso farlo però mi permetto di buttarla lì se dovessi far arrivare delle armi pericolose in Europa saprei in quale pipeline metterla dove non sono controllato e saprei dove farle sbarcare al centro dell'Europa abbiamo provato a vedere se riuscivamo a prevedere a questo punto vediamo che è successo in Europa nel 2016 allora questi sono gli attentati del 2014 lo vedete sotto quello che è successo nel 2016 il sistema era soltanto il 2014 ecco la previsione del sistema e guardate come sono gli attentati del 2016 questo significa 79% di precisione nella previsione non è tantissimo ma col 79-80% si è a sapere quali zone presidiare più di altre l'ultima applicazione di questo modello alla terra dei fuochi praticamente era successo che erano state segnalate tramite Facebook da una serie di persone una serie di fuochi anomali con dei veleni nella zona intorno a Caserta registrate da Cira che è un consorzio statale Cira non sapeva che cosa farci con queste segnalazioni ce le ha passate dicendo siete in grado di capire cosa sta succedendo abbiamo preso queste segnalazioni vedete questa è la zona questi sono i luoghi dai cui venivano le segnalazioni in un periodo molto breve dal 28 aprile al 25 maggio cioè gente che diceva ci stanno dei fumi strani neri che secondo me sono inquinanti nella mia zona li vedo dalla finestra dice dove stai te stai lì XY va bene ecco il sistema dice il centro di questo Outwork è lì tra Melito e Scampia come si espande si espande così eccolo la cosa curiosa è che questo fu fatto a maggio guardate il 24 settembre 2013 la forestale di Napoli pubblica i rilievi che ha fatto e ha trovato effettivamente i depositi tossici guardate il grafo della guardia di finanza con i cerchi e il grafo prodotto a maggio dal nostro sistema lo vedete poi sono stati arrestati parecchie persone e compagnie e associazioni e questo è tra l'altro il sito ancora in vigore della forestale dove potete vedere la Corriere della Sera le notizie a proposito non so se volete vedere i terremoti è la cosa dell'Italia la prima idea o preferite uno stop e parlare un po' ponendo domande o considerazioni allora se i terremoti siano prevedibili o no è una vecchia questione se ne parla su tutti gli articoli scientifici dal 97 perlomeno e questi sono una rappresentazione compreso gli INGV ok e però a tutti i livelli come vedete anche oggi ITP eccetera per cui chi si porre la questione non è scemo a livello mondiale tranne che in Italia per un grosso periodo non si poteva porre ok bene nel 2011 Marina Ruggeri del Tor Bergata e il sottoscritto pubblicano un libro sulla River Publish con l'Anna Specialistica Internazionale sulla prevedibilità dei terremoti e in questo libro è contenuto un'esperienza fatta da Roberto Benzi professore ordinario di fisica teorica qui all'Università del Tor Bergata e dal sottoscritto mostrando come sono prevedibili cosa è prevedibile la magnitudo sapendo che cosa e sono prevedibili anche le eruzioni laterali dei vulcani parlando dell'Etna dice come è stato verificato è stato verificato in un articolo scientifico che ho scritto insieme ad altri collaboratori e a Stefano Gresta Stefano Gresta fino a ieri presidente dell'Ingv diciamo quello precedente all'attuale che ci aveva incaricato come l'Ingv di vedere la prevedibilità dei terremoti visto che aveva scatenato un terremoto chiedendocelo perché non si devono prevedere perché è bene che facciano danni in modo che ci sono più soldi per riparare perché se lo sai prima puoi evitare dei danni e non girano parecchi soldi quindi ci occupiamoci dei eruzioni laterali del vulcano l'Etna e qui mostriamo come sia prevedibile al 99-98% le eruzioni laterali dell'Etna con tre giorni d'anticipo ok? significa salvare vita perché le eruzioni laterali sono quelle che fanno fuori paese non quelle che sono dall'alto bene gli unici dati che potremmo prendere grazie sono quelli dell'USGS al momento perché l'UNGV quando c'era boschi era probabilmente impraticabile cioè non dava data a nessuno non si sa mai cosa li raccoglieva abbiamo raccolto dati con l'Università di Denver e l'USGS dal 76 al 2002 su tutti i terremoti registrati in tutto il mondo la teoria è molto semplice la terra è una palla di Nutella con dei piccoli sassolini dentro una cosa che succede qua non si trasferisce soltanto in periferia sulla superficie ma incide su tutto il sistema a livello di volume e se esistono delle microtostrade di elasticità di conduzione siccome i liquidi sono poco o niente comprimibili qualsiasi perturbazione in un punto può creare o niente o una perturbazione anche fortissima al punto opposto passando all'interno non necessariamente in superficie bene per cui le reti neurali vedendo tutto quello che è successo potrebbero capire qual è la magnitudine in ogni quadrante 50 per 50 km abbiamo fatto noi tutto il mondo 50 km e 50 km allora questi sono tutti terremoti nel mondo dal 76 all'81 dall'82 all'87 dall'88 al 93 94 al 98 99 al 2002 tutti insieme come vedete questa è una distribuzione uno che non è casuale manco a volerla due non è legata solo alle faglie per esempio quella roba che vedete in Nord America sopra lì non c'è alcuna faglia in Arcanzò questa è la distribuzione di tutti quei terremoti in magnitudo vedete che la maggior parte sono tra 4.1 e 5.1 questa è la stessa con una binnizzazione intervalli più piccoli per far vedere che sono distribuiti in due campane le vedete qui a un esame di matematica o di statistica se dici che una distribuzione del genere è casuale ti mandano a casa facendo di pagare una multa noi avevamo soltanto anno mese giorno ora latitudine longitudine e profondità che era stata verificata per ogni sisma questa è la correlazione lineare che esiste tra questi dati e la magnitudo cioè 0 guardate l'R4 con sistemi lineari non si capisce niente c'è soltanto un po' di correlazione tra la latitudine cioè l'altezza la vedete l'altezza qua si vede che variando l'altezza variano gli arremoti va bene benissimo abbiamo diviso il campione di tutti i dati che erano come immaginate oltre 162.000 no 320.000 i primi 162.000 del passato in training e gli altri in cieco altri 162.000 in cieco allora questa è la correlazione di vari sistemi guardate nel 94 abbiamo sbagliato abbiamo indovinato l'87% 87% sulla magnitudo vado guardate questo dal 16 maggio che cosa al 31 maggio tutti gli eventi allora reale in blu la magnitudo in blu predetto con un mese di anticipo in rosso guardate questo è il 16 maggio fino al 31 maggio guardate gli errori ci sono ma siamo nell'orbita dello 0405 di magnitudo che è enorme in termini di magnitudo perché va esponenzializzata alla 32esima però magari a saperlo se invece di 4.1 ti dico 3.8 beh insomma guardate questo è dal 16 maggio al 31 maggio questo è il 19 maggio tutto quello che è accaduto il 19 maggio tutto quello che è accaduto il 20 maggio guardate la precisione 21 maggio 22 maggio 23 maggio qui c'è uno sbaglio evidente ecco abbiamo seguito il fenomeno in diretta a spese nostre come centro di cerche per la Repubblica dando questi risultati l'ingv addirittura quando ha cambiato presidente da Boschi a Gresta è rimasto così affascinato questa cosa ci ha invitato a un convegno abbiamo fatto una conferenza abbiamo cominciato a lavorare insieme poi passato presidente Gresta finita la storia però questi nel mondo benissimo abbiamo diviso tutti quelli nel mondo in magnitudo inferiore a 3,5 tra 3,5 e 4,5 sopra 4,5 in tre classi quanto riusciamo a prevedere in ogni parte del mondo con queste tre classi abbiamo diviso abbiamo usato diversi sistemi quelli in rosso sono i nomi dei sistemi quelle nostre sono le prime ecco il nostro sistema lo vedete qua in rosso praticamente quelli in cieco quelli minori di 3,5 e superiori a 2 lo dico io 93% 86 quelli tra 3,5 e 4,5 al 90% quelli superiori a 4,5 al 92% ecco ed ecco la matrice di confusione 93 90 92 e questa invece è la previsione fatta per un anno in rosso la verità e in blu in rosso la verità e in blu la stima lo vedete il test 4 invece è stato fatto in un periodo fondamentale perché era dal 18 febbraio 2011 fino al 19 aprile 2012 quello che vedete quella punta in alto è quello dell'Aquila sono di tutto il mondo quello dell'Aquila l'avremmo mancato avremmo detto che era un 4,5 invece che un 5,9 quindi c'è ancora da fare per le grosse per i grossi picchi capite in Italia l'Ingv ci ha affidato di monitorare per l'Italia e l'abbiamo fatto ecco qui il documento di l'Ingv progetto ciclostilato approvato istituzionale abbiamo diviso l'Italia in quadranti da 22 per 17 km tutta l'Italia vedete quei puntini lì ora in blu sono quelli dove non è mai successo niente in rosso quelli dove è stato registrato in un mese almeno un evento sismico superiore a 2 ok allora questo è giugno luglio scusate la mappa che vedete sono cose veramente avvenuto a luglio quella a fianco scritto ANN Output è la mappa prodotta a giugno da noi in cui paventava questa situazione ci siamo agosto questo è quello che è successo ad agosto questa è la mappa prodotta da noi a luglio che prevedeva quello che sarebbe successo ad agosto e così via guardate i puntini rossi ogni tanto che capitano che sono importanti vedete qua qua a nord allora e noi vi faccio vedere tutto qui c'è la bibliografia io questo powerpoint posso lasciarlo a vostra disposizione sta già sul computer questo il punto è non è che da domani mattina siamo in grado di prevedere i terremoti ma siamo in grado di prevederli abbastanza a livello operativo ma siamo in grado di prevederli abbastanza bene che con un po' di studio e di dati e di cooperazione e di approfondimento istituzionale tenendo quindi un laboratorio di previsione che comunica soltanto con la protezione civile e con l'ingv si riesce nei termini di sei mesi otto mesi a essere anche noi competitivi come gli Stati Uniti e quindi ad avere un sistema di allerta che la protezione civile poi può filtrare come meglio crede tra le varie e tant'opinioni ecco io ho tentato di fare velocemente infatti ho senza voce un panorama delle principali cose che abbiamo fatto senza spiegare nulla di metodo ma questo è intelligenza artificiale come la stiamo facendo noi adesso stacco 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 la diretta ma se volete la diretta la registrazione ma se qualcuno ha delle domande professore una domanda posso vedere varie popologie di soffi che potenza di calcolo devono avere la tua per utilizzare quel soffi